I militari della stazione Carabinieri Forestale di Castrovilleri hanno denunciato all'autorità giudiziaria un uomo di Roggiano Gravina con l'accusa di furto di legna in un'area comunale. La pattuglia, durante un controllo effettuato nei giorni scorsi in località Farneto del comune di Roggiano, aveva sorpreso due persone intente a tagliare delle piante di Farnia. L'area interessata al taglio di proprietà del comune di Roggiano Gravina è stata percorsa dal fuoco ed è quindi un'area vincolata e indisponibile a questa attività come previsto dalla legge quadro sugli incendi boschivi. Le due persone identificate avevano avuto mandato per le operazioni di taglio da un uomo di Roggiano il quale prontamente identificato ha prodotto ai militari un'autorizzazione comunale che prevedeva l'asportazione del materiale regnoso secco presente a terra, cosa ben diversa dall'attività riscontrata dagli stessi carabinieri forestari. Infatti era in corso un vero e proprio taglio boschivo di piante ancora in piedi effettuato attraverso l'ausilio di una motosega sottoposta in seguito a sequestro. Le piante tagliate sono risultate essere oltre 80 e tutte di varie dimensioni. Una parte del legname era giacente sul letto di caduta, mentre l'altro era già stato trasportato e depositato presso l'abitazione del trasgressore come verificato dai militari. Oltre alla denuncia dell'uomo al sequestro della motosega si è proceduto anche alla restituzione del legname al legittimo proprietario.